Buongiorno a tutti, bentrovati a questa nuova edizione di Sinergie, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Quest'anno, come sapete, è un'edizione digitale ma ricchissima di personaggi e di contenuti che ti aiuteranno a acquisire visione e informazioni anche sulla trasformazione digitale del settore immobiliare. Allora, io devo partire subito con una serie di ringraziamenti perché questo evento, un grande evento, non poteva essere realizzato senza l'aiuto di tante persone. Intanto ringrazio il pubblico, quindi voi, abbiamo superato i 900 iscritti pochi istanti fa, quindi direi un successo strepitoso e ovviamente tutti gli sponsor che sono oltre 20, che hanno dato un supporto materiale e di contenuto a questo evento. Devo ringraziare anche due amici che mi stanno dando una grande mano anche nella conduzione delle tavole rotonde, che sono Diego Caponigro e Paolo Leccese. Avremo anche una scheggia impazzita durante questo evento, infatti ho voluto una social room composta da tre agenti immobiliari molto social e conosciuti anche nei vari gruppi di agenti immobiliari. Sto parlando di Alessandro Pasquale, Alessandro Casabianca e Massimiliano Russo. Ecco, loro faranno delle incursioni e insomma spoileranno un po' di informazioni sul web, quindi insomma ringrazio anche loro. Ovviamente se mi state vedendo e ascoltando adesso dovete dire grazie al mio team delle meraviglie, quindi tutti i ragazzi di primo round che mi stanno assistendo e alla team leader Paola Luppino che ringrazio ancora una volta. Allora, cosa succederà oggi? Oggi avremo quindi questa prima sessione plenaria, quindi il mio intervento di una ventina di minuti, due grandi ospiti di cui vi parlerò tra breve. Insomma dalle 11.30 partiremo poi con quattro sali in contemporanea, avremo quindi 24 workshop, tre tavole rotonde, due eventi speciali. Quindi voi avrete una piattaforma in cui avrete una finestra in cui c'è il relatore inquadrato, una finestra in cui verranno condivise slide, quindi video e quant'altro, ma soprattutto, cosa importante, una chat che vi consentirà di porre domande in diretta e quindi insomma i relatori avranno facoltà di rispondervi in tempo reale o salveranno queste domande e vi risponderanno poi nei prossimi giorni, poi spetterà a loro questa parte. Avrete quattro pulsanti ovviamente e un pulsante per il programma aggiuntivo in modo tale da restare sempre allineati con lo svolgimento del programma e potrete così scegliere cosa vedere di fatto e quando. Dopo di me ci saranno due personaggi strepitosi che sono Paolo Iabichino che è una vera icona della comunicazione che vanta grandi collaborazioni con network e brand globali, parlo di FCA, di American Express, di Armani, di Ferrero, insomma ci parlerà su come far muovere un mercato che è tipicamente immobile. Seguirà Rudy Bandiera, un divulgatore effervescente, ci parlerà quindi di digitale e insomma di come sta cambiando anche la socialità, quella dimensione, come fare a capire il presente per costruire il nostro futuro professionale. Qualcuno di voi mi chiede ma perché insomma chiami relatori outsider ovvero fuori settore? Guarda le ragioni essenzialmente sono, è una, è una che si compone da tre indizi e sto parlando di innovazione. Di solito le innovazioni nel settore immobiliare, e adesso vi farò tre esempi, arrivano da fuori settore. È difficile che il settore partorisca grandi innovazioni. Primo esempio, dati. Oggi le valutazioni online sono disponibili ovunque, ok? Portali, player diversi, ma in realtà ci sono dei giovani che hanno iniziato sette o otto anni fa, parlo per esempio di Casasher, parlo di Reopla, che erano all'epoca giovani, oggi un po' meno, che hanno comunque lavorato sui dati e hanno prodotto degli utiliti che sono estremamente interessanti, però erano extra settore, quindi non contaminati, non ingabbiati in un'architettura che in qualche modo limita l'innovazione. A loro bisogna guardare. Secondo esempio, realtà virtuale. Oggi è disponibile da qualunque soggetto, però nel 2015 non se ne parlava o se ne parlava poco. Arrivano degli altri giovani, extra settore, realistico e in qualche modo e con lavoro importante instaurano di fatto uno standard relativo alle visite virtuali. Anche in questo caso giovani outsider. Terzo aspetto, parliamo dell'iBuyer, quindi parliamo di Casavo, che peraltro è sponsor del nostro evento. Casavo, giovani che due anni fa, 25-27 anni, lanciano un modello innovativo, raccolgono 100 milioni in due anni. Quindi la domanda che vi faccio è questa. Possibile che non ci fosse qualche imprenditore dotato di esperienza, di relazioni, di capitali per poter tradurre, quindi portare questo trend americano anche in Italia? Sicuramente sì, ma come ho detto prima, l'innovazione è sempre outsider. Quindi l'invito che ti faccio è mantieni sempre una mentalità extrasettore, non farti assorbire completamente dal quotidiano, lascia sempre una finestra aperta sul mondo che ti sta intorno. Allora, passiamo quindi adesso al mio report. Recupero il fidato Giraslide. Voi sapete che ogni anno realizzo questo report sulle reti, sulle aggregazioni immobiliari. Quest'anno faremo un escurso sui numeri, ma magari fermandoci su un paio di slide in particolare per alcune riflessioni. Allora, buona notizia. Il numero di operatori immobiliari anche quest'anno è cresciuto ed è cresciuto in modo significativo. Praticamente è stata una crescita del 6,63%, il che significa che gli operatori sono 49.396 rispetto ai 46.323 dello scorso anno. Quindi insomma un settore in crescita che pandemia, crisi o quant'altro, insomma non sente ragioni, continua ad attirare persone. Vuol dire che quindi è un settore che presenta opportunità molto importanti. Come vedete, qui ecco le agenzie in franchising sono cresciute, sebbene in modo insomma modesto, parliamo di un 3.88%. E devo dire che quest'anno, facendo un inciso proprio sulle agenzie, rispetto alle previsioni catastrofiche che in parte si sono avverate per quanto concerne proprio il numero di transazioni. Io qui ho due dati. Nel primo trimestre abbiamo registrato un 15,5% di transazioni in meno, nel secondo trimestre addirittura un 27,2%. Si pensa di arrivare a fine anno a 494.000 compravendite. Quindi insomma un mercato direi contratto, però io ho riscontrato al di là di questi numeri, parlando con tanti agenti indi, indipendenti e appartenenti a reti da Aosta a Palermo, un'alta energia, un'alta produttività, un'iperattività con numeri e fatturati importanti almeno fino all'ultimo di PCM di novembre che ci ha già proiettato in area natalizia e quindi col caminetto acceso e noi seduti in panciolle, ma ci riprenderemo anche da questa cosa. Come conciliare quindi delle previsioni col meno davanti e dei numeri che non sono esaltanti con questo sentiment così importante? Io penso che ci sia una sorta di aumento della percezione nel mercato del valore degli agenti immobiliari. Credo che in questi anni gli agenti abbiano lavorato sia sull'inalzamento delle competenze, sia sull'adozione di strumenti digitali importanti, li hanno resi più performanti, allineati ai tempi e il pubblico probabilmente ha riscontrato questo fenomeno, questa tendenza e di conseguenza che gli agenti immobiliari stiano in qualche modo andando ad erodere quella quota di compravendita ancora non intermediata? Non è un'affermazione, è una domanda che vi faccio, io credo che sia un po' questa la situazione, però lascio a voi ogni conclusione, il mio è così, è lanciare un po' un sasso nello stagno. Quindi andamento franchising e compravendite, anche qui ho registrato da un po' di anni una corrispondenza tra l'andamento del numero di compravendite e le affiliazioni in franchising, quindi salgono le compravendite, ci sono più affiliazioni, scendono le compravendite e ci sono meno affiliazioni. Cosa indica questo? Che di fatto il franchising è un settore opportunistico, di fatto non è ancora un fenomeno strutturale, già che copre di fatto circa l'11% degli operatori nazionali, quindi ancora tanta strada da fare. Andando avanti, poi questo report ve lo renderò disponibile per lo scaricamento, quindi questo proprio in primissima visione. Allora, ecco, questa è la slide tanto ambita, quindi per farci un po' fare una fotografia sulla percentuale di punti vendita di vari brand sul mercato. È una situazione che vede comunque sempre il grande marchio, il grande gruppo Tecnocasa, Tecnorete che guida, voglio dire, questa sorta di classifica, sebbene nel corso degli anni, come potete riscontrare dalle edizioni precedenti di questo report, sia una fetta di torta che via via si sta lentamente erodendo e lasciando spazio ad altri competitor. Credo sia un mercato ancora stabile, con prospettive, ma un mercato un mercato abbastanza statico. Serve innovazione e soprattutto serve puntare sulle nuove leve. Oggi la gente immobiliare come età media è tra i 45 e i 50. Ecco, la vera sfida è andare ad attirare giovani, 35, 30, 25 anni. Parlare con loro, fargli sapere che esiste una carriera immobiliare e lavorare sui giovani. Per fare questo però serve un linguaggio che sia vicino alle generazioni più fresche e loro servono per portare avanti e far crescere, sia di valore che in opportunità, il settore dell'intermediazione immobiliare. Aggregazione alternativa ed MLS, anche qui ci sono dei gruppi, gruppi locali, network anche nazionali, che puntano su una collaborazione basata intanto sull'intento e poi sulle piattaforme. Sono aggregazioni trasversali, quindi uno brand di fatto che lasciano l'agente immobiliare ampia indipendenza in materia di marchio. È un settore da tenere in grande considerazione perché lì dentro può capitare davvero di tutto. Vi faccio un esempio. E' arrivato anche in Italia il gruppo IAD, i francesi, di fatto che stanno introducendo il modello di multi-level marketing. È un modello che io sinceramente faccio fatica oggi a inquadrare in una matrice e quindi dire ok siete franchising, siete non franchising. È una cosa sulla quale sto andando a lavorare, ma il punto qual è? È che è un tipo di aggregazione alternativa che oggi mette insieme circa un centinaio di agenti e consulenti e quindi è da guardare con estrema attenzione. Abbiamo detto trasversalità nei modelli e soprattutto modelli digitali adatti alla società liquida. Io sono abbastanza stanco oggi di notare e vedere le barricate tra le piattaforme di intermediazione digitale che dicono noi siamo in futuro, costiamo di meno, quindi puntando su un prezzo basso e gli agenti tradizionali che dicono no, servono a strette di mano la relazione, un intervento fisico in presenza perché sennò il mercato immobiliare non va avanti. Ecco, io quello che vi propongo proprio è quello di instaurare un flusso produttivo digitale nelle vostre agenzie, quindi eliminare queste barricate, ma in realtà creare un flusso complementare che parta dalla A di acquisizione e finisca dalla V di vendita. Quindi utilizzare le tecnologie per metterle insieme e creare un modello di lavoro da affiancare alla vostra attività quotidiana.